Il seno della donna, la mamela della donna, è una delle parti più identificative, più riconoscibili di una donna, per quello che una donna è la parte del suo corpo che le fa sentire forse più donna ed essere donna. Le problematiche legate all'estetica del seno possono essere legate al volume del seno, alla forma, all'elasticità e anche quelle piccole che possono accadere sul capezzolo, sulla reola, la forma della reola, la forma del capezzolo e non dobbiamo dimenticare anche quelle donne che hanno perso la mamela per diverse malattie e che devono essere sottoposte a una ricostruzione. Per migliorare la forma, il volume della mamela abbiamo diverse tecniche. Se per esempio si parla di una mamela piccola, quello che facciamo è una mastoplastica additiva. Io la mastoplastica additiva la faccio o con protesi o con il lipofilling, con il grasso, con protesi. È la classica mastoplastica additiva dove in base alla struttura della donna, la struttura delle spalle, come siano larghe le spalle, come sia la mamela, se è una mamela più alta, più bassa, più tonda, più larga, più corta, devo scegliere che tipo di protesi utilizzare, se utilizzerò una protesi tonda o se utilizzerò una protesi a forma di roccia, quelle protesi che si chiamano anatomiche. E poi dovrò decidere se mettere la protesi dietro la ghiandola, tra la ghiandola e il muscolo o dietro il muscolo. In base alle caratteristiche della donna, non sono io a scegliere la protesi, la scelgo in base alle caratteristiche della donna e anche all'effetto che entrambi vogliamo ottenere. Nel mio concetto di estetica non c'entrano nulla quelle bolle, quelle tette troppo grosse, troppo tonde. Mi piace l'estetica molto naturale, il seno molto naturale. Quando parliamo di aumento di volume lo possiamo fare anche col grasso, utilizzando il grasso della propria paziente si fa una liposuzione e si fa un lipofilin, un'iniezione di grasso della stessa paziente nella mamela per dare più volume alla mamela. Questo grasso quando è innestato dentro la mamela comincia a crescere, a ingrassare, a dimagrire, uguale che ingrassa o dimagrisce la paziente, la signora. Quando parliamo di una forma strana della mamela, per esempio quelle mamele che sono molto pese, molto cadenti, che hanno perso l'elasticità dopo le gravidanze, lì dobbiamo parlare di fare una mastopessi, una pesi, una pensi del tessuto per rimodelare di nuovo la mamela e portarla su, modificando l'altezza dell'areola del capezzolo e modificando tutto il resto dei tessuti, addirittura di solito avanza un po' di pelle, quindi bisognerà togliere la pelle per rendere la mamela più tonda e più tenuta in su. Quando si parla, per esempio, di una mamela troppo grande, abbiamo la possibilità di fare una mastoplastica riduttiva, che è quella tecnica chirurgica, dove vado a togliere la pelle che avanza e anche la ghiandola che avanza e quindi si riduce di una taglia, due taglie, tre taglie, eccetera, in base a quanto sia la grandezza della mamela e quanto la vogliamo ridurre. Tutte queste tecniche si possono avvinare tra di sé, nel senso, per esempio, io posso avere una mamela molto cadente e che non abbia tanto volume, quindi dovrò fare una pesi per sollevarla, ma dovrò impiantare anche una protesi per darle volume, quindi sto avvinando due tecniche, la mastopesi con la mastoplastica additiva. E la stessa cosa succede, per esempio, quando ho una mamela molto grande che cade troppo, lì posso avvinare la mastopesi, tirare sulla mamela con la mastoplastica riduttiva, ridurre il volume della mamela e addirittura ci sono dei casi dove si riduce la mamela, si toglie il grasso della mamela, si toglie la ghiandola della mamela e si inserisce una protesi per dare più sostegno e più tenuta alla mamela e fare una mamela più consistente, più tonda e più forte e che i tessuti della mamela non cadano e si mantenga quella mamela in alto per qualche anno. Oltre a queste tecniche del rimodellamento della forma della mamela possiamo fare anche quelle piccole tecniche chirurgiche che vanno a migliorare anche il capezzolo o l'areola. Sicuramente avete visto quelle persone che hanno un'areola molto grande e la vogliono ridurre, si può fare. O quelle persone che hanno i capezzoli in dentro, che si chiama capezzolo introflesso e dà fastidio, quindi si può fare una tecnica per fare uscire questo capezzolo e avere un capezzolo normale. Anche si può riempire con grasso il capezzolo per dare più proiezioni al capezzolo. Quindi ci sono delle tecniche che non solamente modificano la forma della mamela se no che ci sono anche delle tecniche per fare piccole chirurgie della mamela piccoli miglioramenti della mamela che forse non li avevate mai pensati o pensavate che non esistessero. Nel caso che di quelle persone che sono state sottoposte a una quadrantettomia per un tumore che toglie un pezzo della mamela o una mastettomia che togliere tutta la mamela a volte togliendo pele, a volte togliendo l'areola, a volte togliendo il capezzolo ci sono delle tecniche oncoplastiche e di ricostruzione per riprendere, ricreare quella mamela. Nel caso che sia stato tolto un pezzo della mamela un quadrato della mamela, un quadrante della mamela quello che possiamo fare è la tecnica dell'ipofilling per aumentare il volume di quella mamela lì dove manca o addirittura possiamo utilizzare gli stessi tessuti della mamela quei tessuti rimanenti dopo la quadrantettomia e utilizzare una protesi per rimodellando quei tessuti e mettendo una protesi dietro riuscire ad avere una mamela uguale alla contralaterale alla mamela del lato contrario o si può modificare la mamela che è stata operata perché ha avuto un tumore, perché ha avuto un cancro e modificare anche la contralaterale, la mamela contraria per cercare di avere una simmetria e un'armonia tra le due mamele. La stessa cosa succede quando c'è stata una mastectomia si può fare una ricostruzione immediata o una ricostruzione di ferita questo dipende del caso di tumore o del caso di cancro o del caso di perché è stata fatta la mastectomia e le tecniche di ricostruzione mammaria sono diverse ci sono quelle che chiamiamo autologhe e quelle che chiamiamo eterologhe quelle che chiamiamo autologhe, i chirurghi le chiamiamo così sono quelle che utilizzano gli stessi tessuti della persona per ricreare la mamela possiamo utilizzare la pelle, il grasso, il muscolo di diversi parti del corpo per creare di nuovo una mamela e quelle che si chiamano le tecniche eterologhe sono quelle dove utilizzeremo dei materiali sintetici come sono le protesi per ricreare la mamela questo si può fare in un passaggio o richiedere diversi passaggi per ottenere il risultato finale nel caso, nei casi dove l'areola è stata tolta durante l'intervento di mastectomia o di quadrantettomia anche il capezzolo è stato tolto questa areola si può anche ricostruire e ci sono diverse tecniche di ricostruzione da quelle più semplici che sarebbero fare un tatuaggio con la tecnica del tatuaggio e poi ricreare il capezzolo con una tecnica di tagliando la pelle e quindi creando un innesto creando un lembo cutaneo che crea quel nuovo capezzolo o si può fare l'areola con tecniche più complesse prendendo pelle da un'altra parte del corpo per esempio dell'inguine che è una pelle un pochettino più oscura del resto del corpo e utilizzando quella pelle come innesto per ricreare l'areola e come sempre dico anche si può fare il capezzolo quindi come vedete ci sono diverse tecniche ci sono altre tecniche che in passato ho utilizzato per esempio mi ricordo quando sono usciti gli acidi dialuronici per riempimento corporeo che io li utilizzo per esempio nel caso della mammela dell'uomo nel gluteo negli addominali nelle spalle nei muscoli bicipiti delle braccia i bicipiti eccetera ma nella mammela non è consigliato iniettare l'acido dialuronico perché il modo di iniettare l'acido dialuronico dentro della mammela crea dei depositi di acido dialuronico delle raccolte di acido dialuronico che al momento di fare una mammografia un'ecografia possono nascondere dietro delle lesioni che purtroppo il radiologo non se ne accorge e quindi possiamo nascondere possiamo coprire una lesione che deve essere che può essere studiata o deve essere studiata e quindi mi raccomando non utilizzare questi acidi dialuronici per riempire la mammela per fare un effetto di riempimento momentaneo della mammela altre tecniche che esistono per sollevare la mammela è l'utilizzo dei fili si possono utilizzare i fili per sollevare la mammela ci sono diverse tecniche io nel momento attuale non li utilizzo le ho utilizzate ma il risultato che ho visto era una tenuta della mammela un sollevamento della mammela che durava per poco tempo mentre che con la tecnica chirurgica mi assicuro che facendo una pezzi del tessuto una mastopessi una pensi mi dura un risultato di minimo 5 anni in base a se la paziente ingrassa o dimagrisce nell'arco di quei 5 anni dopo l'intervento quindi occhio quando andiamo a cercare un chirurgo che si occupa di mammela che sappia fare le diverse tecniche di mastoplastica della mammela e di ricostruzione della mammela e occhio con queste nuove tecniche che ogni tanto escono senza avere ancora una base scientifica senza sapere anche la durabilità di questa procedura la mammela è un organo molto delicato è un organo unico per la donna e bisogna trattarlo bene e bisogna curarlo bene e fare il meglio perché è una zona molto visibile che le donne ci tengono tanto tanto di ricostruzione di ricostruzione Grazie a tutti